Musica Wow 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 Grandi amici del tubo Ben ritrovati in questo nuovo video Come potete vedere da questa schermata Che non è il gameplay di Formula 1 Sono qui per farvi un intro Postuma a questo episodio Perché ho fatto la mia solita minchietta Solita no per fortuna ma ogni tanto l'ho combinata In questo episodio volevo parlare Volevo raccontarvi Volevo portare assieme a voi due Gran Premi Della seconda stagione Avevo registrato il primo che era andato male Ho registrato il secondo che è andato bene E vedrete dopo Però il primo l'ho cancellato Per sbaglio dal salvataggio Della Play perché sono un genio E quindi avrete solo Un Gran Premio, quello di Sochi Quello del Bahrain invece Perché quello dell'episodio prima non era il Bahrain Sono sconfuso E' andato perso E purtroppo non riesco È impossibile recuperarlo C'è di buono in questa cosa schifosa Che era un Gran Premio veramente pessimo Infatti siamo arrivati tipo Quindicesimi, quattordicesimi Una roba del genere Ma non avendo mai una possibilità di fare punti Cioè proprio mai competitivi In tutto il weekend Quindi tutto sommato Non vi siete persi niente Tranquilli Qualche mia incazzatura Qualche sorpasso Magari qualche bagar Sì ma tutto è per posizioni Che contano poco o niente Ora Bando alle chance Vi lascio il Gran Premio di Russia Che invece è molto più divertente Quindi tra i due Se dovevo perdere uno Meglio quello del Bahrain Che quello di Russia Adesso magari non sarà quello del Bahrain Ma è di un altro posto E mi direte Non è Ce l'hai con il Bahrain Sì potrebbe essere Ma secondo me è del Bahrain E se non è del Bahrain Chi se ne frega Perché tanto non lo vedete C'è quello di Russia Spero il video vi piaccia Vi lascio il Gran Premio Ovviamente se parlo Dello scorso Gran Premio Parlo di quello che non avete visto Non di quello dell'ultimo episodio Bella Sono un cretino Eccoci qua allora ragazzi Come promesso Per voi è passato qualche secondo Per me è passato un giorno intero Siamo qui per le qualifiche Del Gran Premio di Sochi Russia Dopo un pessimo Pessimo Gran Premio Primo Gran Premio In questo episodio Andiamo a riscattarci Possibilmente qui in Russia Dove andiamo forte Se vi ricordate L'anno scorso Con la Sauber Abbiamo fatto Il nono posto Con la Sauber Quindi con la Renault Mi aspetto grandi cose Non voglio chiamarmi un podio Però sarebbe bello Fare un bel podio Ecco invece Al momento siamo Quattordicesimi Mamma mia Sesti addirittura Non l'avevo visto Sono concentratissimo Nel giro Sesta posizione Alle qualifiche Che a premio di Russia Mamma mia Undicesimo Hulkenberg Ne avevo dato Quasi un secondo E qua raga Non capisco perché Ma andiamo veramente Veramente forte Primo degli altri Primo degli altri allora Come sempre No addirittura First up è il nono Quindi Prima del primo degli altri Perché Altrimenti sarebbe dovuto Essere settimo Ma Sono molto molto felice Raga Si può fare un podio Non è così lontana Questa speranza Buon pomeriggio da Sochi Dove sta per partire Il gran premio di Russia La battaglia per il titolo È ancora lunga Ma possiamo aspettarci Una lotta Senza quartiere Su questo circuito Che ha fatto il suo debutto Nel 2014 E ha tutto il necessario Per diventare un classico Ok ragazzi Eccoci qua Sulla grida di partenza Veramente un'emozione Partire da qua davanti Andiamo subito A montare il carburante Abbiamo 13 giri Rimettiamone il solito Uno in più Che magari ci fa andare Un pelo più piano Ma con la miscela grassa Possiamo sorpassare qualcuno Se no mi viene ansia Senza benzina Mmm Io farei la solita Tattichetta Di un giro in più Quell'Ultra Soft Che non si sbaglia mai Eccoci qua signori Pronti la partenza Del gran premio di Russia Soci Siamo qui con Ricciardo Incredibile Guardate quanto davanti partiamo Non mi sembra neanche vero Solo una volta per sbaglio L'ultimo gran premio Dell'anno scorso Siamo partiti davanti Abbiamo un po' il motore Guarda Fetta E come è partito male Ragazzi lo imbuchiamo Ve lo dico Lo imbuchiamo Giriamo quarti Giriamo quarti Qua in fondo Anche se in realtà Si sono messi molto Non riesco a passare in mezzo Proviamo a prenderla Tutta di qua Tutta di qua Dentro su Fettel Ricciardo Mio Dio Siamo quarti Ehi là Stai calmo Ciccio Non ci credo Raga Cioè Sto gran premio di Soci È sempre una figata Ma non riesco a capire perché Wow No pianino 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 Mettila subito La standard Abbiamo fatto il nostro In partenza Abbiamo Fettel Che scampita ovviamente Perché le Ferrari Sono la macchina più forte Del gioco E non possono stare dietro Una Renault Difatti tra poco Mi sorpasserà Com'è che mi sono andati Così via tutti Oh Sì boh Vabbè Che Cristo Di domande sono Sono le Ferrari Le Mercedes È ovvio Finisce il primo giro Ragazzi Fatto bene Direi Per non dire benissimo Occhio Adesso Fettel Qua mi super assicuro Nel rettilineo Lunghissimo Che abbiamo Di Soci Lasciamo anche un po' Di spazio Sì ma Io vi lascio lo spazio Perché dovete darmi dentro Guarda come protegge la staccata E vabbè 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 Lo proviamo a staccare Più in fondo possibile Ma ovviamente Ci ha passato Perché non c'è un'altra curva Va bene raga Va bene La quinta è la nostra posizione obiettivo Dobbiamo arrivare noni Ma possiamo arrivare tranquillamente Quinti Ferrari e Mercedes Che vadano Cosa devo dire Spero di non aver fatto perdere La gara a Fettel Tra l'altro fa un sacco di scintine La Ferrari Guardate che roba Bello che l'abbiano messa Queste cose Abbiamo davanti Ricciardo Molto molto bene Eccolo Ricciardo Con il motore Red Bull Che ci prova Abbiamo lo stesso motore Tra l'altro Cristo Cristo Sono cattivissimi Oh Sono cattivissimi È una cosa incredibile Quest'anno È una cosa incredibile Quest'anno Sono cattivissimi Eh ma non ci lasciamo passare così Eh raga C'è Grosjean Verstappi Dov'è finito? Vabbè Siamo sesti Va comunque super bene Come posizione Ricciardo Non lo Non la passi liscia Però eh Siamo appiccicati a Ricciardo E qui ci si butta Qui ci si butta Duro come ha fatto lui Duro come ha fatto lui Lo induciamo al bloccaggio E passiamo Torniamo in quinta posizione Eh sì Perché io Vi faccio il bravo E vi lascio le scie Ma se vuoi Mi toccate ogni volta Mi sorpassate Guarda Ricciardo In difficoltà Adesso Ha fatto un po' Da tappo Perfetto Forse quell'errore Era un po' scorcentrato Benissimo Allora abbiamo preso spazio Benone Benone Quinto giro ragazzi Abbiamo quasi un secondo di vantaggio Su Ricciardo Che purtroppo può attaccare Per 50 millesimi Di RS Quindi si sta riavvicinando Ha fatto un po' il vuoto Di lui E solo lui A caccia nostra Però potete vedere È abbastanza lontano Ovviamente da quelli davanti Neanche guardo più i tempi Perché prenderemo Mezzo secondo a giro Circa probabilmente No Forse un po' di meno Ma comunque prenderemo Vari decimi a giro Sicuramente Ma benissimo così Siamo in una posizione In cui la Renault Comunque Se va bene C'è Ma Normalmente Non dovrebbe esserci Ecco Quindi Più contenti di così Non so che dire Intanto Ricciardo Si fa pericolosamente avanti Per questo quinto posto A cui Diciamo Spetta molto di più di me Ecco Diciamo così 6 secondi 6 decimi Non riesco a stare fuori dal DRS E questo è un problema Perché Io non ce l'ho E lui col DRS mi prende Difatti Eccolo qua Eccolo qua Ricciardino Che è arrivato Qua mi dicono Ricciardo ha un problema Non mi pare Visto che è qua dietro E mi fai sbagliare la curva Perché Dio santo Ingegnere Ti sopporto L'ho salvata Per un pelo Raga Ce l'abbiamo qua Mi hanno detto che ha problemi Meno male Perché Mi sta Morsiccando le gomme posteriori Vabbè Non so che dirvi Raga Sta per finire il quinto giro Effettivamente L'abbiamo dato un po' via Però non so mai Non riesco a capire Vabbè No Forse effettivamente Ha un problema Non lo so Non lo so Se qualcuno ferma i box Tra l'altro raga Se qualcuno ferma i box Siamo terzi Sul podio Anche il mio compagno Di studiare i box Ok Abbiamo fatto noi Un giro in più Quindi questo Dovrebbe essere il giro In cui cerchiamo di fare Il tempo buono Per Magari Provare ad avvicinarsi A quelli davanti O comunque Non perdere le posizioni Da quelli dietro Non dobbiamo sbagliare Questo giro E la prima curva Non è di buon auspicio Ok Eccoci qua Che dobbiamo rientrare i box Mi sembra di aver fatto Un buon giro Ma non so se basta Occhio qui Alla curvetta Bastarda Non so se può bastare Dove Cristo è Ho perso qualche decimo Speriamo bene raga Molto lunga Questa pit lane Bisogna appena fare la curva Poi bisogna uscire Tutto Quindi Abbiamo un po' di spazio Tra l'altro First up E altra gente Si sta fermando Assieme a noi Quindi insomma Qualche posizione Dovremmo averla Sicuro Noi sempre In fondo Al mar Facciamo i pit stop Via 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 Ok Passato Fate Sembra che non sia passato Nessun altro Là sta arrivando qualcuno Che non so chi è Chi è quello là È Ricciardo? Non lo so raga Non lo so Dobbiamo spingere al massimo Assicuriamoci di mantenere La posizione Sì l'abbiamo mantenuta Anche perché Ok Pensavo arrivassero Con molta più Fretta Quelli dietro Ah e Grosjean Sono quinto Ma Ricciardo Quindi effettivamente Ha avuto un problema Veramente Vabbè Chi se ne frega Degli altri Noi comunque abbiamo fatto Un'ottima Non più stop Abbiamo mantenuto La posizione Adesso ci aspettano Forse Cinque giri Tranquilli Perché tanto Quelli davanti Sono davanti Quelli dietro Non sono poi così Dietro Invece Signori Appena iniziato L'ottavo giro Abbiamo due Secondi abbondanti Da quelli dietro E dieci Da quelli davanti Mamma mia Stavo rischiando Di andare a muro Guardandomi dietro Sono veramente Un cretino Per ora Sembrerebbe che La seconda parte Di gara Sarà una cosa Noiosa Ma comunque Piacevole Perché Finchè giriamo Da soli Ma quinti Va benissimo Anche tutto Il Gran Premio Da soli Ve lo dico Staremo a vedere Ragazzi Ci riaggiorniamo Più avanti Nei giri Al momento Cerchiamo di fare I buoni giri Non perdiamo tempo E via andare Signori Sta per iniziare L'ultimo giro Gran Premio Come vi dicevo Tranquillissimo Qui cin secondi Da quelli davanti Ne abbiamo presi Cinque In sei giri E cinque Quattro Da quelli dietro Ne abbiamo dati Tre In cinque giri First up Si è appena rimesso davanti D'altro Gara abbastanza Disastrosa Per la Red Bull Perché Ricciardo È partito davanti a noi E o si è ritirato O comunque Aveva problemi E indietro Ed è per questo Che abbiamo preso La posizione Da sesti a quinti Quella che siamo E first up Ha appena superato Grosjean E sono in lotta Per la sesta posizione Comunque molto dietro di me Quindi sicuramente Ah no 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 Guardate first up Quanto ha dato via I suoi compagni Ah ok ok Infatti prima avevo Molto più Di cinque secondi Di vantaggio Vediamo È su di da di quattro Infatti vedete che Comunque le Le Red Bull Hanno un altro passo E sarebbe stato Molto da lottare Con first up E a Ricciardo Probabilmente Siamo arrivati dietro Ma Questo ovviamente Non si sa Fatto sta che Non ci sono Quindi Noi Siamo qui Pronti per terminare In quinta posizione Miglior piazzamento In carriera Veramente questa gara Di soci Fantastica Perché ogni volta Faccio dei garoni Allucinanti Il nostro compagno Di scuderia Ha avuto qualche Problemino Wickenberg Mi pare che Ha ridato due volte In box O comunque Mi è stato detto All'ingegnere Che aveva un problema Quindi si è arrivato Abbastanza indietro Anche lui Il Gran Premio Un po' sfortunato Direi che Due gare Ha senso Completamente alternato Oggi Vinte Valtteri Bottas Tra l'altro Finalmente Non una Ferrari Una prima gara In cui non si andava avanti Siamo arrivati Per miracolo Praticamente Cioè Veramente è stato Assurdo E mentre la seconda Abbiamo Spiegato Abbastanza Come si fa Ultima curola Il Gran Premio Di Russia Che veramente Non dovrebbero Intitolare La famiglia Troppeolo Per quanto andiamo Veloci qui Quinta posizione Per noi A due posizioni Dal podio Dietro solo A Mercedes E Ferrari Che spettacolo Questo Gran Premio Raga Bottas Raikkonen Hamilton E allora Forse quei due giri In cui è tenuto Fette Gli sono costati La gara Mi sa Si è arrivato Quarto No Vabbè Era Vabbè Era comunque Lì Diciamo Ecco Dieci punti mondiali Per noi ragazzi Da sesti Siamo arrivati Quinti Guardate Vediamo Tredicesimo Niente di tragico Addirittura Davanti a Ricciardo Pensate un po' Che era partito Quinto Si sono ritirati Magnussen E Felipe Massa Vediamo la posizione In classifica Signori Siamo settimi Abbiamo superato Sergio Perez Con questi punti E abbiamo 24 E le Red Bull Sono lì Tutte e due A 28 Quindi raga È una gara Con le Red Bull Il nostro mondiale Ve lo dico Bene bene Avanziamo Vediamo la rivalità Vediamo i punti Bene 23-13 La nostra rivalità Lo stiamo massacrando Guardate qui La Red Bull E anche come è salita Che evidentemente Abbiamo battuto Entrambi i suoi piloti È andata in piena Molto molto bene Abbiamo un evento Speciale Da fare nel prossimo Episodio Quindi vi saluterò qui Volevo farvi vedere L'albero dell'abilità Ma ve lo farò Delle risorse Come si chiama Ve lo farò vedere Nel prossimo episodio Ho messo una cosa A fare per il motore In cui siamo un pelino Più indietro Rispetto alle altre Quindi nel prossimo episodio La vedrete Penso Credo E niente ragazzi Ci rivediamo Nel prossimo video Di Formula 1 Domani con un nuovo video Di NBA Sicuramente Se non vi piace Iscrivete al canale Se non è ancora fatto E appunto Ci vediamo domani Bella